Basta con i deliri burocratici di questi anni, gli agricoltori abruzzesi non possono più perdere il loro prezioso tempo. Dietro cumuli di carte, lo ha affermato l'assessore all'agricoltura Dino Pepe questa mattina a Pescara in regione nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha preso parte anche il direttore dell'assessorato Giorgio Chiarini. L'assessorato alle politiche agricole, facendo riferimento anche alle normative sulla semplificazione, alle necessità dettate dalle norme di ridurre i costi di gestione alla introduzione dell'informatizzazione, ha prodotto anche con la condivisione delle organizzazioni professionali una importante e significativa semplificazione delle procedure e riduzione numerica dei documenti di gestione del potenziale viticolo. Rivoluzione importante a livello procedurale, grazie all'impegno dei nostri uffici, ringrazio il direttore Chiarini e quanti hanno lavorato a questo progetto di semplificazione di tutta la struttura vitivinicola abruzzese. Dal 1 agosto partirà una vera e propria rivoluzione che consentirà appunto di sburocratizzare gli aspetti che riguardano il viticolo abruzzese, in particolare il potenziale viticolo abruzzese, quindi le superfici vitate e quant'altro. Un procedimento che è stato realizzato grazie all'impegno di una task force all'interno dell'assessorato condiviso anche dalle organizzazioni sindacali e da domani si avranno gli effetti concreti di questa rivoluzione culturale. Mi auguro che questi processi di sburocratizzazione possono continuare a migliorare nei prossimi mesi, nei prossimi anni perché noi dobbiamo rendere la nostra regione facile e veloce, come giustamente sottolinea il nostro presidente, e dobbiamo evitare sempre più le evidenze burocratiche che sono state nel passato assurde. Noi dobbiamo semplificare, ridurre i costi di gestione, l'introduzione molto del sistema informatico, dobbiamo fare in modo di dare meno problemi agli agricoltori e viticoltori e quindi noi dobbiamo rendere un servizio assolutamente facile e veloce e attraverso questa rimodulazione che hanno fatto i nostri uffici sicuramente daremo un servizio importante al mondo della viticoltura. Noi entreremo a pieno regime da domani, dal primo agosto e quindi per la prossima campagna saremo pronti assolutamente di dare questo servizio. Pensate che nel passato questo mondo era rappresentato da 20.000 copie cartaci, documenti cartaci che venivano forniti e questi saranno ridotti in maniera consistente e determinante.